Il diploma di specializzazione in beni archeologici presso l'Università degli Studi di Firenze. Per quanto riguarda l'abstracto del suo articolo, il contributo proposto e finalizzato alla ricostruzione del paesaggio antico della valle del Medio Basento in Basilicata, in particolar modo dei territori di Accettura, Garacuso e San Mauro Forte, tra VI e IV secolo a.C., importanti centri per la comprensione e l'interpretazione dei rapporti instauratisi tra gli indigeni dell'interno e i coloni greci della costa. Grazie.